Sarebbero 17 gli episodi contestati a illuminare Pietro Litta, il ginecologo di fama internazionale dipendente dell'Università e dell'ospedale di Padova, accusato di peculato e di truffa aggravata ai danni dell'Ateneo e dell'azienda ospedaliera. Il Pubblico Ministero ha chiuso le indagini rilevando almeno 17 visite mediche in cui il professore avrebbe raggirato i due enti di cui era dipendente per trarne un indebito profitto. Lo scandalo che ha travolto il medico 67enne, molto stimato, era partito nel novembre del 2017 da un video ripreso con telecamera nascosta da una giornalista della trasmissione Petrolio che, spacciandosi per una paziente, si era fatta visitare nella clinica di Cittagiardino in regime di intramenia pagando 250 euro in nero per un'ecografia. Controllati i computer e il telefono del professore, gli inquirenti non hanno trovato altre tracce di pagamenti in nero. L'episodio più grave, però contestato al professor Litta, sarebbe avvenuto nel 2016 in ospedale a Padova con la falsificazione di un verbale, spacciando un intervento per una visita specialistica. Inoltre, in cinque casi, il PM sostiene che il medico avrebbe visitato privatamente delle pazienti durante l'orario in cui doveva essere presente in azienda ospedaliera. Ora il luminare rischia di finire in carcere.